Non basta dire Europa è il titolo dell'ultimo libro del Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi che prosegue nella linea politica di sottolineare l'importanza dell'Unione Europea. Questo lavoro, scritto insieme al giornalista Antonio Pollio Salimbeni, centra l'attenzione sul pericoloso avanzare dei populisti. Dopo il tour l'Europa in Toscana, incontrando istituzioni e aziende delle province toscane, Rossi ha parlato di Europa a Bruxelles, presentando appunto il libro, uscito a maggio. Per Rossi l'Europa è un'istituzione fondamentale, tuttavia da migliorare. L'Europa avrebbe bisogno di rafforzarsi, di essere anche più democratica, di dare un ruolo più forte alle istituzioni non intergovernative, che invece condizionano le politiche europee, e quindi di essere anche più trasparente. L'Europa ha bisogno di avere un bilancio proprio, forte, che consenta di fare investimenti. L'Europa ha bisogno di superare le politiche di austerità. L'Europa ha bisogno di una politica comune sull'immigrazione. L'Europa ha bisogno anche di colpire e di intervenire duramente contro quei regimi che violano lo Stato di diritto. Nel libro c'è anche un appello contro Brexit del cantante Sting. La prefazione è di Franz Timmermans, vicepresidente della Commissione europea. Rossi domani interverrà in aula durante il dibattito sul ruolo delle regioni UE nella governance multilivello dei cambiamenti climatici, alla presenza di Miguel Arias Canete, commissario europeo per l'azione per il clima e l'energia. Grazie. 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 Grazie.